Inizio, vado avanti io e io stavo dicendo che oggi c'è poco da recriminare la tua squadra perché ha creato tantissime palle e gol, hai cambiato anche tu nel secondo tempo, bella la posizione di Politano quasi vicino a Lusano a fare il centrocampista, però quegli errori che sono singoli perché poi non è di reparto e nella costruzione di quel gioco dal basso lo state passando. Stiamo pagando a caro prezzo e poi diventa dura, magari con un geno schierato così che nella zona centrale ti lasciava poco spazio, creare anche se poi alla fine hai fatto 24 tiri in porta. Ma oggi c'è poco da dire, oggi è la stessa parete con lo spezzo, gli errori ci stanno, siamo meglio di me, giocato a calcio è vero che stiamo pagando a caro prezzo ogni tre giorni difficile, si stanno lavorando poco, anche sulla costruzione ci stiamo lavorando poco perché non c'è tempo, si gioca sempre. Devo dire che oggi bisogna fare solo i complimenti alla squadra, è soltanto che abbiamo fatto tutto noi, ci siamo fatto due volte a soli e dopo abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Però bisogna guardare avanti, c'è grandissimo rammatico perché quest'anno tante partite li stiamo perdendo in fotocopia e questo devo dire che ci fa male. Davide? Sì, io rimanendo su questo argomento, mister le chiederei se, siccome ha parlato già in passato di continuità mentale che a volte è mancata la squadra, se questi errori nascono magari appunto dal calendario, dalla fatica da non allenarsi o è se è anche un discorso proprio mentale, ad esempio il primo gol? No, è una questione anche di postura, perché se vuoi vedere il primo gol in punizione poteranno girare avanti, abbiamo giocato dall'indietro, la postura di Maximo vi si è aperto poco, ora gioca sul professe, ha ripensato, ha fatto un giro palla con Manolà, si era ridata e abbiamo sbagliato un appoggio. Ma ci può stare, soltanto che ci sta andando, ci sta girando male e dopo ci sta, la difficoltà non ce ne stiamo avendo solo noi, questo per come stiamo giocando, ripeto, giocare in un certo modo bisogna lavorarci, sicuramente c'è un'attenuante, quella che stiamo solo recuperando e giocando, dopo è vero che questi problemati non li abbiamo solo noi, c'erano tutte le squadre, però noi li stiamo pagando a caro prezzo. Certo, nel primo tempo soprattutto avete fatto fatica a sfondare centralmente, tanti piedi da fuori, poche volte siete entrati in aria, quello vi è mancato da quel punto di vista. Mi sono visti una partita della tua, se tu dici siamo entrati pochi in aria, perché siamo entrati 4-5 volte, un paio di volte con Petagna, abbiamo entrato da fuori, siamo arrivati dentro e abbiamo fatto quello che dovevamo fare, non posso riproverare nulla la squadra, la squadra ha fatto quello che doveva fare, ripeto, abbiamo fatto tutto noi, siamo fatti del male da solo. Marco, ti ascolta. Ciao Rino, tante volte abbiamo visto questo Napoli, tante occasioni create, pochi gol, è anche vero che però manca un attaccante, l'attaccante principe che abbiamo vinto oggi 35 minuti, io credo che con Osimene sta squadra cambia tanto, perché lui attacca la profondità, non ha i giocatori che attaccano così la profondità, perché allargano gli spazi per andare a giocare tra le linee, quindi bisogna recuperarlo il più in fretta possibile, lo sai che è un giocatore importante? Sì, noi stiamo facendo tutto per recuperare, la cassa è stata tre mesi ferma, noi abbiamo la bacchetta magica, ci sta, ha avuto il Covid, ha avuto un problema alla spalla, ha gioca anche una fascia tour perché ancora gli dà fastidio, è normale che ancora non ha la condizione al 100%, un po' di luce l'abbiamo vista, abbiamo visto tre giorni fa, quando è entrato in Coppa Italia, ha cominciato a morirsi in maniera migliore, oggi abbiamo dato un minutaggio più lungo da quando è rientrato, e lo sappiamo, le caratteristiche ha, lo sappiamo bene, abbiamo avuto poco, sicuramente sia lui che Pietani sono giocatori, due giocatori talmente diversi, ma anche Pietani hanno sviluppato bene oggi, ci ha fatto salire, ha fatto quello che doveva fare, però Osimene è un giocatore che sicuramente ci dà più profondità, ci dà più soluzioni. Dario Sì io ti volevo chiedere, la posizione di Polidano, perché a me Polidano oggi mi è piaciuto tanto, cioè è un giocatore che ti ha fatto, anche organicamente sembrava stesse meglio di tutti gli altri, infatti non volevi toglierlo e l'hai messo a centrocampo proprio perché poi t'ha gratificato con il gol, però è un giocatore che insieme allo Zano da quella parte veramente era diventato il lato destro e il lato forte, dove costruivate un giocatore Addirittura erano 3 contro 2 Sì, lavoravamo, abbiamo lavorato molto bene, andavamo sempre in mezzo, c'era sempre uno veniva incontro, anche perché la profondità c'era sempre la catena, c'era sempre la soluzione giusta, siamo stati molto bravi Puoi avergli trovato un luogo nuovo? No, ma è il problema che in questo momento è difficile, perché anche l'altro giorno quando mi sono messo a 3, ve l'avevo detto perché non solo per, è vero per il rispetto per l'Atalante che stava bene, ma anche si fa fatica a recuperare, Dario si fa fatica a recuperare, guarda anche oggi Zerisca ha fatto fatica a entrare in partita e si è riposato, è difficile, bisogna fare le scelte giuste Perché dopo si rischia anche di perdere qualche giocatore, già di mezz'anno abbiamo poco, se vuoi quando vogliamo giocare a 3, perché sia Lobotica che Demme e Bakaio Kou su 3 vertici bassi e fanno fatica a fare le mezz'alle, capisci che tante volte bisogna trovare anche la soluzione giusta Per oggi Rino la tua squadra è stata molto corta, molto compatta, cioè hai visto un Napoli bello quadrato, ha concesso poco, le sbavature sono sbavature Io, quello che ho detto prima, grandissimi complimenti alla mia squadra, però devo dire che quest'anno è livello delle partite, tra l'altro abbiamo preso le parti sempre in fotocopia, abbiamo commesso tantissime, abbiamo regalato tanto E' anche vero che quando costruiamo, quando andiamo a creare tanto, facciamo fatica, bisogna stare calmi, bisogna stare calmi, ancora ci sono tante partite nel lavorare Rino mi chiedo a guarda d'oro con quegli errori, perché 24 a 2 è il dato sui tiri, però quei due tiri sono stati due gol e errori in uscita nel primo tempo, è chiaro che una stanza di gol di Bari, ovviamente Piero, ma nemmeno in uscita, guardate bene, guardate il primo gol, il primo gol si sapeva un po' di più a livello di postura, di facile lettura, diciamo, siamo ugualiati, abbiamo fatto un errore, ci può stare, però è un errore banale Se riesci un po', ti apri un po' meglio, vai al portiere, metti i piedi sopra e puoi sviluppare in maniera diversa, però va bene così Cos'è che la preoccupa di più Gattuso in questo momento, in una settimana che comunque già presenta almeno uno snodo in settimana con l'Atalanta, poi ci sarà la Juve, insomma, sarà una settimana veramente calda e carica Mi preoccupa che i numeri non mentono, non è la prima partita, lo studiamo tanto e perdiamo e concediamo poco, non è la prima, è questo che mi preoccupa Perché la dottore, oggi chi farà la dottore non deve andare a casa preoccupata, ci avrà male, deve bruciare, però va avanti, però fa tanto tempo che sarà che succede questo aspetto qua Grazie Grazie a voi, grazie a voi Grazie a voi Grazie a voi Grazie a voi